salutiamo belè saluta ciao eccoci qua siamo qua in panoramica guardate dove siamo siamo pronti e belè per andarci a fare il nostro giretto certo vi aspetto qua quando volete vi accompagno in questi posti fantastici ieri eravamo a bossico con un gruppo del multisport i ragazzini ci siamo divertiti tutto il giorno oggi siamo qua domani dove siamo domani non mi ricordo dove siamo domani sabato sabato siamo di nuovo alle piramidi con un altro gruppo certo ok andiamo via uno due tre eccola la partita eccola qua vuole andare vuole andare eccola e ciao ciao come è stata stato bello salutiamo ciao ciao vi aspetto ciao ciao